Ehi la Bedrockers, come va? Minecraft torna ad aggiornarsi, e lo fa con il primo vero drop ufficiale, il Bundles of Bravery. Ma la vera novità della settimana è sicuramente l'uscita, finalmente direi, della versione nativa per PS5. Ne sarà valsa la pena attendere tutti questi anni per avere la versione next gen del gioco? Beh, adesso andremo a scoprirlo insieme. Ma intanto, tu ci daresti un'enorme mano supportandoci qui su YouTube. I 20.000 iscritti sono ormai ad un passo, e considerando che pubblichiamo video da poco tempo, grazie davvero a tutti voi per quello che state facendo per me, Dantino. Va bene, addentriamoci adesso nell'update 1.21.40, che porta con sé due features interessantissime. Intanto, la prima è l'arrivo ufficiale su Bedrock dell'Hardcore Mode. Ebbene, finalmente ce l'abbiamo fatta, il ritardissimo rispetto agli amici della Java Edition. Anche noi Bedrockers potremmo divertirci, sì, diciamo divertirci, a perdere i nostri mondi dopo una sola sconfitta. No beh, scherzi a parte, si tratta di un'aggiunta dovuta, che sono certo riporterà tanta gente sul gioco anche solo per provarla. Certo, il fatto che non possa essere attivata nei mondi già creati è un po' una fregatura. Visto che sta arrivando solo ora, ed io non ricomincerò il mio mondo da zero. Sarebbe stato davvero molto carino darci la possibilità di attivarla, chiaramente creando un mondo copio per tenere separate la versione standard e quella hardcore, e chissà che magari non lo faranno in futuro. Ma per adesso va bene lo stesso, ce la pigliamo così com'è, che è già un grosso risultato. L'altra big aggiunta di questo nuovo drop sono i bundle, dei sacchetti che possono contenere fino a 64 oggetti, di cui inizialmente, a dire il vero vi avevo parlato in modo non del tutto entusiastico, ma la versione definitiva devo dire che mi ha convinto molto di più. Le critiche, se poste nel modo giusto, possono servire, e sono felice che la Mojang abbia ascoltato anche quella parte di community meno felice. Già solo il fatto che potremo colorarli, a mio parere, li rende molto più utili in fase di stoccaggio. Ed oltre questo, hanno migliorato nettamente la leggibilità dei nomi degli oggetti, la visualizzazione degli stessi, ed insomma tantissime piccole modifiche che prese tutti insieme li hanno resi davvero interessanti. Ok, non sono delle shulker box e rimane la limitazione degli oggetti non staccabili che riempiono un sacchetto completamente, ma per il resto, ora, direi che ci siamo davvero, e prevedo soprattutto che nelle fasi iniziali saranno molto usati. Ok, fino ad ora abbiamo parlato di cose belline e belline, ma questo aggiornamento porta pure una notizia drammatica. Hanno fatto fuori l'aggo d'Apple, esclusiva della Bedrock Edition. Forse non tutti lo saprete, ma la meladora incantata della Bedrock era l'unica a garantirci Rigenerazione 5. Ora invece, proprio come quella melaccia screusa della Java Edition, ci darà Rigenerazione 2. E vabbè, voi penserete? Estica. Eh sì, forse avete anche ragione, ma la God Apple ce l'avevamo solo noi e non capisco proprio che noia dava alla Mojang. Vabbè, addio God Apple. E onestamente il tuo sapore fa pure un po' cagà. Tornando a noi, in realtà di altre modifiche importanti da segnalare direi che non ce ne sono. Hanno risolto qualche bug minore e soprattutto hanno modificato molte funzioni della creativa. Per esempio, hanno aggiunto la possibilità di poterci dare degli effetti dalla durata infinita. Ottimo quando devo registrare scene nelle grotte e mi serve la visione notturna. E niente male anche il modo in cui hanno riorganizzato i menu dell'inventario, raggruppando per esempio tutti gli oggetti di rame, di tufo, di pietra e via dicendo. Prima alcuni erano sistemati, altri un po' a casaccio. Bene, ora il tutto è fatto decisamente meglio e sarà più semplice trovare subito quello che cerchiamo. In ogni caso, se volete leggere ogni modifica, anche la più minuscola, vi lascio il link all'articolo completo in descrizione, potete darci un'occhiata. Perfetto, passiamo al blocco successivo dove andremo a parlare della versione nativa next gen di Minecraft. Ragazzi, porcaccia, è praticamente identico alla versione PS4. Io ero certo che le shaders sarebbero arrivate su console con questa versione del gioco, ed invece per adesso niente. Chiaramente la PS5 potrà supportarle, ma io mi sarei aspettato un lancio in pompa magna, con la grafica avanzata direttamente al day one. Inoltre, anche il DualSense è stato completamente tralasciato. Niente vibrazione, feedback haptico o trigger adattivi. Niente di niente. L'unica differenza rispetto alla versione PS4 sono una risoluzione ed una render distance maggiore. Gira generalmente meglio, ma niente di incredibile. Ragazzi, voglio essere onesto, sono rimasto un po' deluso. Intendiamoci, non avrei voluto in nessun modo vedere funzionalità di giochi esclusive, visto che la Bedrock è cross-platform ed è giusto che garantisca le stesse cose a tutti i players. Ma almeno usare le peculiarità di questa console, come per esempio il controller, anche banalmente sfruttare lo speaker presente sul DualSense. Pensateci, quanto sarebbe stato più immersivo sentire i versi del creeper uscire dal controller mentre magari inizia a vibrare per indicarci la sua presenza. Considerando anche la lunghissima attesa, sarebbe stato corretto fare di più. Almeno, a mio parere. In questo modo si tratta di una reskine della versione PS4, impacchettata per poter essere rivenduta. Fortunatamente per i possessori delle vecchie versioni, l'upgrade a quella next-gen per PS5 sarà gratuito. Su questo sono stati generosi e gliene diamo atto. Però abbiamo già finito, non ho altro da dirvi a riguardo e sono tristissimo, perché io pensavo di doverci fare addirittura un video dedicato ed ho pure comprato la PS5 del trentesimo anniversario per giocarci. Vabbè, non ci rimane che attendere con pazienza stai shaders. Eh sì, non sto chiudendo il video perché sto piangendo dalla delusione, mi è solo entrato un picconcino in diamante nell'occhio. Alla prossima, ragazzi. E dal solito, stay safe, stay bad rockers.